Grande attesa battipaglia per l'arrivo del governatore della campagna Vincenzo De Luca. Il motivo è il taglio del nastro della nuova sede IMSS in Viale della Previdenza 6 che sarà inaugurata domani mattina alle ore 10.30. Ad accompagnare il presidente ci sarà la sindaca cecidia francese insieme ai primi cittadini dei comuni limitrofi ma anche autorità militari, civili e religiose. Sarà anche l'occasione per discutere con l'amministrazione e la sindaca dei lavori di più Europa che sono in stato avanzato. Inoltre si chiederà al presidente della regione De Luca di finanziare il sottopasso in Via Colombo.